Sono Federica, ho 20 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzata con Alfonso da 8 anni e conviviamo da quasi un anno. Scrivo io in Pishon Island perché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Ad esempio mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato, addirittura andare a ballare è una cosa impossibile, o anche una vacanza, sono cose che non ho mai fatto, se non con lui. Accetto di partecipare perché sono consapevole che sono molto geloso, non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei.